Cecco Dascoli, il letterato autore della Cerva, cultore di teologia ed astrologia destinato a morire sul rogo come colpevole di eresia nel 1327 a Firenze, ebbe fama di profeta, indovino e negromante. Una leggenda marchigiana lo fa padrone di un formidabile libro del comando che per conservare la sua virtù doveva essere bagnato una volta all'anno nel lago di Pilato, presso Norcia, come tutti i libri consimili. Grazie alle formule che vi stavano scritte in misteriosi caratteri, Cecco compì straordinarie imprese, costruì la via Salaria, il ponte sul torrente Garaffo, affluente del Tronto, gli enormi massi di cui è fatto furono messi a posto in una sola notte. Se non lo avessero ucciso troppo presto, avrebbe perfino portato l'Adriatico fin sotto le mura della città, e Ascoli sarebbe diventata una grande e potente Repubblica Marinara. Ancora, a lui è dovuto il ponte ad un solo arco sul fiume Castellano, di rimpetto all'antica fortezza dove Cecco era prigioniero, quando, volendo fuggire, evocò il demonio e si fece costruire il ponte, che gli Ascolani perciò battezzarono del diavolo o di Mastro Cecco, promettendo Mastro Cecco in cambio la propria anima, il diavolo. La leggenda, incurante del fatto che Cecco d'Ascoli fu bruciato vivo a Firenze, aggiunge che appena fuggito fu ripreso e condannato all'impiccagione. Non si riusciva però ad ucciderlo, perché i diavoli continuavano a tagliare la corda, così per eseguire la condanna si dovette ricorrere ad un vegetale filiforme chiamato Viticchio, che ha delle giunture con il segno della croce. Quanto al ponte diabolico, semidistrutto dai tedeschi nell'ultima guerra, si dice che voglia ancora una vittima ogni anno e infatti quasi non passa estate senza che qualcuno anneghi in un vicino punto pericoloso del fiume. Ascoli Piceno, Ascule in dialetto ascolano, è il comune marchigiano capoluogo dell'omonima provincia, i cui abitanti sono detti ascolani. Il territorio di Ascoli Piceno è situato nella valle del Tronto. Il centro storico, costituito quasi interamente in travertino, è tra i più monumentali d'Italia e in esso si trova la rinascimentale piazza del popolo. In epoca medievale era anche caratterizzato dalla presenza di circa 200 torri, la cui erezione iniziò subito dopo il 1000. Secondo la tradizione Federico II ne fece distruggere 91 nel 1242 e la loro riduzione proseguì ulteriormente nei secoli successivi, ma ancora oggi conserva diversi esempi di torri gentilizie e campanaria, tanto da essere nota anche come la città delle cento torri. È l'unica città della regione ad avere due teatri storici, il ventidio basso e quello dei filarmonici. La città è anche conosciuta per l'oliva scolana, specialità gastronomica nata ad Ascoli Piceno e diffusa in tutto il territorio italiano e anche al di fuori dei confini nazionali. La città si trova nella parte meridionale della regione Marche e dista 28 chilometri dal mare Adriatico.